buongiorno a tutti che sapete non è stato sul canale siamo ancora qui con la stavadesca cittadina di Springfield e siamo pronti assieme per un nuovo episodio allora ragazzoli in questo episodio andremo avanti con un po' di missioncine abbiamo terminato tutti gli eventi a tempo limitato che avevamo in mezzo sospeso abbiamo sbloccato tutti i personaggi e tutti gli edifici insomma tutto quello che era ancora in balia delle tempeste e degli eventi è stato portato a compimento adesso abbiamo iniziato a portare avanti poi di conseguenza tutte le missioni singole di ogni personaggio e infatti come potete vedere abbiamo la celebromania che consiste nell'arrivare a livello 31 e penso che l'abbiamo superato da un po' e costruire il maniero di Wolf Castle abbiamo il nostro Melrick Menimbonnet il piccolo team abbiamo la morte che sarebbe lo spirito del Natale anche ma vabbè comunque la morte abbiamo la madrina Barnes la strega cattiva il nostro mister spazzaneve e insomma abbiamo un bel po' di missioncine quindi in questo episodio andremo avanti con tutte queste missioni qua tra l'altro io nel frattempo inizio la riscossione e continuo a parlarvi un attimino e dicevo tra l'altro ragazzoli cari ho visto sul sito dove vado un po' a scrocchiare notizie inerenti ai prossimi eventi che a breve mister spazzanei parte 2 ecco ottimo dicevo a breve comincerà un nuovo evento quindi prima di parlarvi del nuovo evento adesso andiamo a riscuotere qualche altra missioncina e poi ve ne parlo questo non prova niente tutti possono cadere faccia a terra chi è caduto faccia a terra Bart non so perché ma credo che i miei genitori non piacerà sapere che la loro angelica figlioletta se ne va in giro a prendere in giro ragazzini con le stampelle attenzione benedizioni per tutti parte 1 completata quindi andiamo avanti con mister spazzaneve buongiorno giorninomer stavo dando una spuntatina alla vecchia spazzola e non ho potuto fare a meno di notare che stai cercando di entrare nel mio garage stupido flanders avevo bisogno di prendere in prestito qualcosa ma non volevo svegliarti questo è lo spirito del buon vicinato beh se vuoi ora ti posso aprire il portone non credo ho già rotto la serratura mister spazzaneve parte tefe sgombrare la neve appunto a homer mister spazzaneve nel frattempo c'è già un'altra missione pronta andiamo a vedere subito grazie dell'aiuto non c'è di che hai detto di chiamarti team si piccolo team sei grande esattamente quanto me perché continuo a chiamarti piccolo forse per differenziarmi dagli altri team più grandi della città beh ci sta effettivamente non è torto come contorto come ragionamento in realtà qui a Springfield ci sono oltre 500 personaggi e credo che tu sia il primo team oddio ragazzi più di 500 personaggi su serio andiamo al municipio a controllare il censimento benedizioni per tutti parte 2 ragazzi più di 500 personaggi allora siamo ben lontani da raggiungere il massimo raggiungibile in questo gioco quindi ce n'è di lavoro da fare ragazzuoli ce n'è ce n'è capo sta lanciando degli incantesimi protettivi su tutto il castello non riusciremo mai a entrare oh 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 la mia magia è troppo potente per le vostre misere pistole a quanto pare dovremo ricorrere ai missili di terra aria capo temo che non rientri non è il budget infatti manco la SWAT ah no e le trivelle sotterranee ad attivazione manuale la coglieremo di sorpresa dal basso non credo proprio mannaggia per stavolta hai vinto strega madrina bars ma torneremo con i missili di terra aria probabilmente non con quelli infatti probabilmente non con quelli ma con qualcosa ma secondo me non torneranno proprio evento completato quindi la parte 3 è stata portata a termine abbiamo quindi scremato un'altra missione per fortuna ragazzi dalla nostra infinita lista di 75 missioni signor spirito questo è niente ho saltato buon pomeriggio sono il dottor hot dog dottor hot dog non so come aiutarlo vediamo cosa posso fare salve signor spirito quindi dice di aver bisogno di aiuto ad aprirsi con gli altri sta tirando a indovinare no è chiaramente quello che sta dicendo ogni psicologo che si rispetti riuscirebbe a capirlo non so cosa sia peggio sprecare attore con uno psicopatico catatonico o lasciare che una salsiccia di maiale parlante mette in discussione le mie capacità professionali sono manso al 100% se permettete ecco infatti l'ulluato del vento parte 2 completata quindi abbiamo la nostra bella morte che giustamente si vuole far valere lo sai che stiamo solo fingendo di combattere giusto smettila di distruggere i costumi di tutti e permettere al nemico di riorganizzarsi non gli darò questa soddisfazione credo che quell'osso in testa gli abbia danneggiato la parte sana del cervello l'abito non fa il cosplayer parte 2 allora prima di andare avanti con il resto delle missioni io vedrei prima di riscuotere in questa zona qui ragazzi comunque rispetto allo scorso episodio ovviamente come dopo ogni episodio sono andato a sistemarmi tutto ciò che abbiamo comprato di nuovo io vi ho già fatto vedere la zona qui come potete notare in cui ci stiamo piazzando ho delimitato tutta crassi insomma ho fatto della bella roba della bella robetta ho delimitato anche questa zona qui purtroppo per questione di uno spazio non sono riuscito a sistemare benissimo il muro e quindi rimarrà così ma vabbè non ce ne frega assolutamente niente e infatti noi tiriamo dritti per la nostra bella situazione allora ragazzuoli vediamo un po' dove siamo arrivati qui abbiamo della roba da sistemare andiamo avanti con le missioni e capiamo quanto tempo abbiamo io ovviamente vi devo parlare ancora del nuovo evento ma non riesco a trovarne il tempo allora prima di andare avanti ovviamente con le missioni cerchiamo di capire un po' quello che stavo dicendo e cioè a breve tra un paio di giorni dovrebbe iniziare il nuovo evento che riguarderà i santi ebbene sì i santi so che sembra quando uno bestemmia e quindi dice i santi i santi no in realtà riguarderà proprio i santi e dovrebbe tipo chiamarsi qualcosa come non ci sono santi in paradiso una cosa del genere quindi insomma io ho letto qualcosina su twitter un po' su internet e ho cercato di informarmi in questa maniera qua però non so precisamente di cosa si tratterà comunque ho visto che ci sono tipo Adamo e Deva poi vedremo ovviamente nel momento in cui andremo a sbloccare l'evento che tipologia di personaggi ci saranno ecco guardate qui comunque siamo a metà del livello 125 quindi tantissima roba ragazzoli tantissima tantissima roba anzi abbiamo già passato la metà ecco siamo a 262.000 su 500.000 ottimo ottimo veramente ottimo allora detto questo andiamo avanti non dovremmo avere nient'altro infatti non abbiamo nient'altro vediamo le due missioni che avevamo e capiamo quanto tempo ci rimane è giunto il momento di annunciare il vincitore del premio miglior costume di quest'anno di sicuro sono io probabilmente perché ha distrutto i costumi di tutti gli altri e il vincitore è magnésium man grazie grazie a tutti ha rubato il mio premio calmati amico siamo qui solo per divertirci il divertimento sarà toglierti la vita aia aia male 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 ragazzoni male male l'abito non fa il cosplayer parte tra vediamo la morte cosa vuole vuole aprirsi circa le sue emozioni beh il primo passo è accettare che ognuno di noi esprime le proprie emozioni in modo diverso ad esempio io non ho particolari emozioni visibili ho lo stesso identico aspetto ogni giorno ma questo non significa che io non provi emozioni significa semplicemente che ho dovuto trovare modi alternativi di esprimerle provetta a scorrere un po' di tempo da solo tra una sessione e l'altra e cerchi di esprimere se stesso crede di poterlo fare ottimo ecco praticamente non ha detto una singola parola ragazzuoli non ha detto una singola parola però va bene uguale va bene lo stesso allora cassaforte come siamo messi cassaforte praticamente di questa roba non abbiamo niente caro del diavolo piccolai c'è la vasca idromassaggio e albero con altalina allora io farei un acquistino dalla cassaforte e terminere qui l'episodio perché non abbiamo ancora molto tempo per portare avanti queste due situazioni qui sia di missioni che ovviamente in corrispondenza di personaggi edifici eccetera eccetera quindi detto questo io andrei a prendermi la vasca idromassaggio da mettere qui cassaforte vasca idromassaggio e la piazzeria proprio in questa situazione qua perché secondo me ci sta quindi facciamo così ci prendiamo 15 cia belle bonus indietro casanuzzi e ziff guardate che bella la nostra nuova vasca idromassaggio topissimo ragazzi molto molto bella vediamo che altro abbiamo albero con altalina piccola isola e caro del diavolo allora prendiamo l'albero con altalina e ce lo piazziamo dietro tipo così ecco così ci sta secondo me allora 5 ciambelle indietro guardate che figata andiamo a chiudere questa zona qua secondo me perché ci sta facciamo quindi così e andiamo a delimitare ok secondo me top ragazzi magari spostiamo tipo così la vasca ok poi me lo sistemerò meglio io però questa zona così mi piace ecco abbiamo preso un po' di cosucce belle interessanti ecco allora io direi quindi che per questo episodio possa essere tutto vi ringrazio per aver seguito i miei compagni ci vediamo nel prossimo video e penso che se non nel prossimo tra un paio di episodi inizieremo l'evento quindi ragazzi stay tuned come dicono tutti e stiamo per inizio il nuovo evento ciao ragazzi ciao 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 ciao